Per Piemonte, per l'Europa, Genda piana e genti bri, Summa alerta, chis la piota, Cum ardur di dai anti. Piemonte a dita d'amur, Caladane al creatur, Piemonte a dir, C'è un bell'eau, Buongiorno a tutti gli amici del Piemonte. Stasera parliamo di la Divina Comedia, da già che è inые l'elan del centenarico facette, della morte Dante, che è mancata nel 1321. e allora ci teniamo già nel nostro canto della Bisalta in una rubrica dove parliamo di questa cosa, e magari se tutti vogliono sapere che la Divina Commedia l'è questa traduzione in Piemonteis. L'esteta sicuramente l'oeuvre traduiva in più di lingue al mondo, ecco, perché ne è almeno sicure cinquant'ört lingue che hanno visto la traduzione della Divina Commedia. Poi ne è che l'hanno traduiva, ad esempio, non tutta la Divina Commedia, ma anche i canti in particolare, perché sono i canti che sono più gettunati, insomma pare, come lì nel conto di Gulin, che era stessa lì, la tour che poi l'esteta ha chiamato la fama a Pisa, perché avvio sarà l'unità con le masnate, come insomma, ero arrivato addirittura a mangiare i cittadini quando sono morti. E poi, ad esempio, il canto d'Ulisse e via forti, no? Però, la cosa che i bitumano, ad esempio, di la Bisalta o anche i giornali che hanno dato spazi, per adesso è la Bisalta. Tra l'altro, sì, vorrei fare una parentesi perché mancava improvvisamente l'Alessandra Witzel, che vorrei proprio ricordare perché l'Echila che andava a questo spazi, che ha chiudato, insomma, a questo spazi, intitolato il nostro canto, che per tanti anni era stato portato avanti da Adriano Cavall, che poi adesso ha più di più a Pinen, aveva di altre cose, insomma, che la chiamavano, se io vi sia c'ha per me il cavio, e pare all'esteta. Ecco, la cosa che l'impressionava da questa partita, Zafia, che comunque l'ha mai 47 anni, è che le manca proprio improvvisamente. Mi l'abbiamo ancora sentito, per l'ultimo accordo sull'articolo che l'abbiamo andato, praticamente dal primo giorno di Disney, l'abbiamo telefonato, ma per confermare altre cose, e poi alla sera, mi è oma, un c'ha, ma dire, ma alle mancaglie di Alessandra Witzel, mi l'abbiamo detto, ma figurate, ma guarda bene, sarà magari a chiudere la famiglia di anziani, no, no, proprio chi l'ha. E infatti alla ciappà un malore improvviso, forse, un aneurisma, e purtroppo le mancaglie, infatti, vi vorrei poi anche ricordarla, magari a dedicanti a un canto che andavrei poi a Cerni della Divina Commedia. E, insomma, chi l'ha anche contenta, chi faceva questa cosa, e l'abbia di me anche le immagini, da Giubin, questo Riccardo Piovano, che è il traduttore della Divina Commedia, sarà così, che poi gli obiettivo, ma poi da bene nelle immagini che è scuro, all'era un personaggio ben particolare, perché chi è l'interessava a tantissime cose, e in particolare il ristauro, poi il pittura, il ristauro delle pitture antiche, e ma qui era tanto, proprio buttando dentro la ricerca della cura con le erbe, tanto l'è che l'abbia che ho fatto due anni nella Facoltà di Medicina, e sono però aggiuntata la mia famiglia per imprendere me lo che era l'anatomia del corpo umano, perché chiaramente era un pittura, oltre che un poeta, anzi, magari che i due italiani ricordano cose che erano capitati in ogni istante, perché chiaramente l'abbia scuovere un crucifix pittura da Michelangelo Buonarroti, e questo crucifix l'abbia fatto tanto rabele, perché c'era chi diceva che era un falso, e invece l'abbia proprio fatto ingaggiare tutti, fino al critico Roberto Longhi, che l'abbia detto che era sicuramente disegno, del mann al Michelangelo, per il desse che per la pittura l'avessi completata in suo anglieu, ma comunque era a spensa, che fu a finissi, nelle nostre zone, da Nabadessa, a casa del Marchese Azzalus, ecco, e chiaramente la teniam dritta in la cassaforte, l'abbia fin a fare e poi una mostra per rispondere a questo dipinto, lì in Tiambirun, da Mismia, d'Imperia o d'Andorra, perché poi l'abbia trasferito in Liguria. L'abbia la sua passione era il ciclismo, magari l'abbia detto, che poi a Cavalca fa tutta questa cosa sul ciclismo, perché l'abbia pedale praticamente fino alla fine della torna, come si dice in Piemonteis, l'abbia vivuta fin a 90 anni, ma si dice che l'abbia continuato a pedale, a esercitare, a fare questo sport, che era proprio la sua passione, fin a 94 anni. E per torner a la Divina Comedia, l'abbia comparito in articolo sulla Gazzetta dell'Estante Quadro, la Gazzetta del Popolo, in due che s'aspiegava da ben la ragione di questa traduzione. L'abbia detto in che maniera, che praticamente l'abbia avrei ammesso anche che fanno i campagni, no? Tra l'abbia o la terra e in particolare con i nostri costi, che l'abbia che parlai della Divina Comedia, perché era un nome che comunque l'abbia anche goi, no? D'interessi le cose culturali quando l'abbia un po' di tempo. E che l'abbia regalato in una coppia, ma andi che l'abbiamo parlato e l'altro ha detto ma ti guarda che l'abbia per me è troppo difficile, non mi capisco quanto tempo. Allora quello è andata proprio parei, che per feglie capì l'abbia tanta corte che capì la Divina Comedia che le buttasse a tradurre quei cantiche e poi pian pianeta la tradurre tutta e l'abbia non è un lavoro da poco, si pensano come che il Piemontese è distante dall'italiano che allora ha praticamente ricostruito tutta un'oeuvre perché intanto l'abbia scritta in terza l'abbia scrittura come insomma quando si tradurre un'oeuvre in nautalengua avrebbe proprio cambiato la composizione ma la difficoltà sta in mantenere il concetto che sostiene tutta l'oeuvre e allora lì sicuramente l'abbia una cosa sembra in certi casi dice che c'è cose che hanno la buona espressività che Giulio Capasco che l'abbia pubblicato tutta questa cosa salto al manac e l'abbia addirittura ha detto che in certi casi aveva che certe cose hanno rinchiato su me in Piemontese che in italiano giù trenta senza sento i professori su cui i cacani dell'università e tutte le maniere è una cosa ben interessante e dunque in tre anni tra due in ora pare insomma sicuramente è una cosa da poco e mia intenzione sarebbe quella se vengi poi per una volta la professora Sissi Bedodi che sa come che ormai l'abbia usata dappertutto sa tutta la Divina Commedia Memoria in Piemontese chi la ha scrivuto in tre volume e se un po' arriverà in libreria il terzo volume tutta la vita di Dante ma romanzà perché come insomma tante cose della vita di Dante c'è tante contraddizioni si capisce giusto per buttare la c'è resa la torta però avendo senti proprio sempre in piacere scutella perché intanto la recita con la sicurezza non è l'alesa perché ora l'umavisca c'è tante trasmissioni anche alla televisione che trasmettano questi attori o attrizi o anche benigni che piccano l'alesa ecco chi invece l'interpreta proprio bene perché l'ha conosce a memoria e tante volte si interrompa per giuntare in cura di cose ai vari personaggi che ha comparito perché chi ha sa propria vita morte miracoli tutti e tante le che ha l'esisto libero è interessante perché l'esisto proprio fa una studia anche se sono romans non è una lettura sembra o distesa ecco come l'esisto perché venga mingata permesso l'esiste note che sono ben ben bundose e andò a che vedo che chi l'ha propita l'entra ben ben ancorosa andrinta tutte queste cose ecco come su sia in piaceria tanto perdeve già quale idee ad come a le sta divina comedia quando chi sarebbe con la bedodi e chi la reciterà magari a toc quei cantiche e mi la stessa l'esero mi la leso perché naturalmente tanto pimpi e montesi lei non studia la sicura a memoria ma tant perfetto come le curiosi anche l'esempio che cambia l'espressività della cosa ben tanti lenghe regionale l'esteta traduce la divina commedia ma anche le lenghe proprio certe città ad esempio napoletano bolognese poi ad esempio anche la region del Friuli l'ha traduita in tal furland l'ha traduita con venezian poi tutte le lenghe anche asiatiche anche in Africa proprio n'oevra che abbia un poeta proprio universale ecco perché ancora in l'età lì l'età di mese trover n'oevra che abbia una profondità come custa è veramente qualcosa di eccezionale e di poc ecco per dire ho provo all'esip ad esempi ant la prima delle cantiche l'acchita dell'inferno dove Dante racconta quando andasse a metà sua vita che può pare lì 30 30 cagli andrì a questa avventura al seguito appunto di Virgili ecco Echiel ha disse la nostra vita lì quasi alla metà i sono trovame al nevalà da scura perché era spardume per la strada a dive come alle le cose dure un bosco garbu senza sente ma che pensere am chapa na paura che dalla testa ai pe am fat ramulè ma dopo tutto in fondo lì trova che era fin del bel st mescute sei sei nè come chi sia capitano tant era piena zogne in quel momento che poco a poco il è perdu la strada ma quant che sono arriva quasi al pendente l'anduva terminava la valada parole abbastanza italianizzate come ad esempio si si dice and dove terminava and dove ha terminava invece che ad esempio dove finia la valada però la via coda gioca anche con il ritmo del vers la musicalità e dunque è una cosa tanto sembra e un altro canto che è interessante mi sia adesso un fermo e non tanto avanti perché poi diventa anche difficile da seguire con il po' tempo che l'uma una cosa che io raccordiamo è dire che questa prima edizione che ha la stampa a sue spese non fa tantissime copie e adesso si dice che è trovabile mi costa che lei ha numerato 400 e poi hanno basso il timbre con suo nome su adressa che l'ha d'Andorra in provincia Savunga fino al telefono e sono tutte firme queste che hanno fatto per so con addirittura questa è la triade che la trova ma è un mercadino perché è veramente proprio come il trifulau è addirittura una coppia che ha il piovano alla via fa e la dedica umage al generale corpo d'armata Giacomo Lombardi con ossegui rispetus Luigi Riccardo Piovano si chiamava ecco quindi all'esteta per ristampare tra il 2011 e il 2012 però all'esteta ristampare chiudia da Burzio a Zaluse però non fai se non si è capitato entrano in tre perché hanno ristampato l'inferno e il purgatore mentre il paradiso paradiso non ecco e in questa prima edizione ha anche tutte le illustrazioni più appunto dal Doré e quindi è anche interessante perché sono tutte incisioni che illustra anche un po' ad esempio sia in un che illustra la parte dove arriva appunto con una verga l'angel che ha spers con leva benedìa eccetera poi c'è tante immagini interessanti che puoi andare a buttare poi magari allungare tutto il percorso adesi visualesi però con le minute che resto del cant terzo dell'inferno perché alle proprie colliche ha dà l'anvi al passaggio dell'inferno la famosa porta che porta la scritta e via parei e ha dìs da questa porta es va es una brutta strada da questa porta es va ant'l'eterno dolore da questa porta a svaffra gent d'anà la gran giustizia la ispirano signor la fame la divina pudestà insieme alla sapienza e il primo amor davanti chiamì gli niente stai crea se nè eterno e mi eterna sono la sé ogni speranza penga entra queste parole brutte per davun le viste scritte l'azzura della porta e mi maestro am ciapui tramulung si naturalmente si rivolge a Virgili quindi a gli intervai ma con parola sabbia e con forta chiamam risponde si duran avanti conven che ogni paura sia morta ti belezì fra poc idvedrass tanti calampardù per sempre la speranza edvedel ciel curaggi andum avanti la piamme per la man e con creanza la su ridume e poi la fam entrè l'anduva i peccadur balu la danza ecco chiamam dora tante maniere di balè la danza a polvere di tante cose nensicur balè sempre una bella danza perché vedessi l'inferno la danza l'era culla che era mena dai fuert di diao e via parei e proprio a proposi di diao delle volte tirava fuori anche d'espressione ad esempio quando si parla carun demoni no caronte che adora il fuert e la dà un salchio ai pover danà no specialmente a cui c'è l'era un po' durmì ecco sono tante cose proprio che fanno anche grignè ecco e per finì i disumappi che vengono poi appunto con la Sissi Bedodi che magari parlerà anche che stancher della sua oeuvre slavita romanzà Dante che è molto interessante perché già parte dagli inizi no quando Kjell nascerà no disuma avevano quasi preannunziato dalla cometa che era proprio passato un Ticei un clan no del 1265 e poi Kjell racconterà poche cose anche della famiglia dell'accadente ecco tutte cose che fanno anche capire un po il motivo che l'hanno portato all'esilo perché veramente la Fiorentina era tremenda ecco sempre in deruta tra loro tra i Guelfi e i Ghibli se era arrivasse al punto che mi lezando proprio ultimamente certe notte l'hai descuvert che quando che i Ghibli vengavano o al contrario vengavano i Guelfi a Firenze avvenia proprio disunen rasa completament ma gli mancava poc perché lì ha campato giù centen e ca per volta scarsa a Firenze all'occupato senza tanti senza fesse tanti problemi bim mi dirio allora a sta mira a Zare e il sento ma poi per un'altra puntata sulla Divina Commedia in Piemonte in italiano arvecce cera a tutti la piana i gendibri sumalerta kisla piota kum ardur di tai anti piemuntar di tadamu caladane el creatur piemuntai si emundeo vive si brande del nostro Piemonte lodo par p Kre o lo